Signori carissimi, capitolo 13, capitoletto 1, Mazarod. Oggi si combatte e si muore per Cal France, per l'impero e per Sigmar. I chisleviti la conoscevano come Mazarod. Ho dimenticato una cosa. I chisleviti la conoscevano come Mazarod, ma per i Kurgan era Kar-Fak-Akshek. In quel luogo, in un passato ormai remoto, era stata combattuta una battaglia molto importante. In estate era possibile trovare pezzi di lancia, punte di frecce, borche di scudi e pezzi di briglie che spuntavano dal terreno. Mazarod era una sponda ghiaiosa che rallentava la corrente del fiume Urskoy, diventando così il punto migliore per guardarlo. Il terreno, su entrambe le sponde, era pianeggiante, punteggiato qua e là di alberi curvi e altra vegetazione tipica delle steppe. Una catena di monti si levava a ovest, mentre a sud-est spiccava una fila di colline basse. Era appena arrivata la primavera e la neve avrebbe ricoperto ancora il terreno per almeno sei settimane. Il disdelo, però, era cominciato. Il cielo era blu e bianco e l'aria era fresca e pulita. L'Urskoy rombava nel suo letto ingrossato dalla fusione dei ghiacciai montani e costellato da lastre di ghiaccio. L'anno era ancora giovanissimo, ma la stagione della guerra era già cominciata e il viaggio della rota dalle steppe fino a Zoynshek durò tre settimane. Molto più del previsto, anche se il naso di Maxim li aveva fatti montare in sella molto presto. La neve spostata dal vento formava alti cumuli simili alle dune di un deserto bianco. Quando raggiunsero Zoynshek scoprirono che il pulco di Saniza si era formato ed era partito. Fyodor Kurkorsk, il boyarin, aveva sfruttato bene la pausa invernale per ammassare un contingente quattro volte superiore a quello che aveva sul film Tobol l'estate precedente. Il pulco di Uskovic si era unito a quello del boyarin e ora i chisleviti potevano contare su un esercito ben nutrito. Il boyarin non desiderava tardare, quindi era partito il prima possibile guidando l'esercito a sud. Il pulco del boyarin aveva incontrato il nemico in un tratto dell'oblast a diverse centinaia di chilometri dal chislev, in una zona che aveva patito molto l'impulsione degli invasori giunti dal settentrione. Il boyarin aveva affrontato l'esercito di Okkodai Tarsus. L'esercito dello zar supremo si stava espandendo a ovest. A quanto si diceva, era stato Arkhaon a ordinare loro di muoversi in quella direzione per dare manforte agli alleati che combattevano sulle montagne centrali. Il contingente dello zar supremo era quasi il doppio del pulco. Si affrontarono fuori dalla foresta di Crasicino. Per un certo tempo, sembrò che l'anno prima il pulco fosse solo scampato alla distruzione inevitabile che stava per avvenire. A un certo punto, arrivò un secondo esercito dallo Stirland. Lo zar supremo si trovò schiacciato tra i contingenti imperiali e il pulco. L'orda di Okkodai Tarsus fu fatta a pezzi e messa in fuga nel corso di una battaglia che durò due giorni. Grosse porzioni dell'orda, incluso lo zar supremo in persona, fuggirono dal campo ma vennero distrutte in maniera sistematica. Gli alleati si diressero verso ovest, inebriati dalla vittoria. Erano tra le prime forze dal Kislev e dall'est che stavano raggiungendo il cuore martoriato dell'impero. Altri contingenti, guidati personalmente dalla zarina, stavano per arrivare. La rota di Beledi raggiunse l'esercito a Kurskosk, a Mazarod, portando con sé gli uomini arrivati da Zonshank. Tutti erano allegri e fiduciosi. Tutti, tranne Gerlach. Lui era arrabbiato. Finalmente, finalmente, stavano per colpire. Stavano per vendicarsi delle terribili ferite subite l'estate passata. Stava succedendo tutto ciò che aveva sperato. Tuttavia, il sogno avuto a metà dell'inverno, e il suo oscuro ricordo, lo rendeva cupo. Doverresti essere felice, Vebla, l'uomo univitali. Ja, concordo, vaia. Stiamo andando alla guerra. Era quello che Vebla ha sempre voluto. Andare in guerra con la rota, diceva Vebla. Venite in guerra con me. Perché non venite in guerra con me? Come un eco in una caverna. Ora stiamo cavalcando verso la tua guerra e... Ciao. Vebla sembra un uomo che ha appena scoperto qualcuno che gli ha pisciato nella coppa. Io sono contento, risposa Gerlach, in più le dita, di andare in guerra. Solo che Vebla... Solo che Vebla cosa? Chiese Vaia. Si tratta del sogno, vero? Disse Vitale. Il sogno che abbiamo fatto tutti, Gerlach annuì. Succederà quando dovrà succedere, sentenzia Vaia. Saggio e fece il gesto tipico con la mano. Come se dovesse spazzare via della polvere per dire che era poco importante. Io credo invece, disse Gerlach, che sia importante. E comunque così si conclude il primo capitoletto di questo capitolo 13. Devo dire che è iniziato col botto quasi. Anche se è una narrazione un po' estemporanea. Dove abbiamo praticamente seguito le gesta dei pulch che si sono radunati. Si sono spinti a sud. Hanno incontrato finalmente i Kurgan. Li hanno affrontati. E grazie poi all'intervento di un secondo esercito dallo Stirland. Sono riusciti a spaccargli le ossa. Ma essenzialmente questo hanno fatto e ce l'hanno fatta alla grande, oltretutto. Uccidendo lo stesso Zar Supremo. Quindi molto bene. Una vittoria per le forze dell'ordine. Però il problema comunque sussiste. Perché l'impero è comunque martoriato ancora più a sud. E Arcaon si sta spingendo a sua volta a sud. Vediamo ora. Vediamo. In ogni caso l'atmosfera è positiva. Ma c'è sempre ora questo sogno, come vi dicevo prima. Per il monitore che va a incupire i pensieri di Gerlach. Che cosa sta aspettando a sud? Qual è il destino che attende? For the Empire! For the Empire! Giacomo. Vi vedo belli stretti intorno all'impero. Troppa allegria. Qui finisce male invece. C'è Francesco che dice No, qui, quando le cose vanno così bene L'abbiamo già visto più di una volta Quando le cose vanno così bene Poi alla fine va tutto a merda Ma veramente tanto a merda Beh, io direi Proseguiamo Prima che insomma Ci si fermi tutta la La spinta vitale Verso la fine di questo fantastico romanzo Quindi iniziamo subito con il capitoletto 2 A Mazorod Poco prima del Guado Gli esploratori tornarono al Pulch Dicendo di aver avvistato un gran numero di nemici Diretti verso di loro Il luogo della battaglia Sarebbe stato Mazorod Il Boyarin Fece accampare il Pulch Sulle colline rocciose A est del Guado Perché da quel punto Dominavano la pianura E il fiume Appena scese la notte Furono in grado di distinguere le forze dei Kurgan Sull'altro lato Dell'Urskoy Domani Combatteremo Disse Beledni Rivolto ai suoi uomini raccolti intorno al fuoco del Krug Era stato convocato con gli altri comandanti Al cospetto del Boyarin E adesso Doveva riferire il piano di battaglia Ai suoi uomini Probabilmente Cercheranno di attraversare il fiume all'alba Il Boyarin Ha detto che dobbiamo colpirli mentre guadano Il fiume è profondo E saranno vulnerabili Gli uomini esultarono E fecero passare il Comis Per blindare alla vittoria Beledni Ordenò a loro Di radersi Gerlach Si allontanò dal Krug E si diresse verso un promontorio roccioso Illuminato Dai fuochi da campo Del Pulch Sull'altro lato dell'Urskoy Invisibile A causa della notte C'era il nemico Accampato Nella pianura Non ti stai radendo Come ho ordinato Mi disse Beledni Comparendo le sue spalle Lo farò prima di andare a dormire Come è giusto fare Rotamaster Hai dei problemi? Gerlach fissò il vecchio E robusto Rotamaster Tu sai dei sogni Li ho fatti anch'io Trovo tutto questo frustante Dice Gerlach Indicando i fuochi Dei Kurgan Daz Mi ha detto Che devo combattere La grande bestia Del caos E il futuro Delle nazioni E nelle mie mani Ja Non ci sono dubbi Sul fatto che Arkham Sempre sia dannato Il suo nome E la grande bestia Vero? Beledni Immagina che sia così Beh Lui non è laggiù Vero? Domani dobbiamo affrontare I nordici Ma se anche dovessimo vincere Vinceremo Vebla Certo Ma anche in questo caso Quell'impresa è un passo davanti a me Quanti altri eserciti dovremo affrontare Sconfiggere Prima che io possa affrontare la bestia Quanto dovrò essere forte? Quel tanto che basta Garlak si passò una mano sulla testa Drizzando il ciuffo Lo spero Sembra che io Non possa farlo Dovrei essere in un altro posto Dovrei Dove sarei importante Qui sei importante Vebla Questa è una battaglia importante Questa E la prossima E la prossima ancora Un viaggio E un Cerchio Lo so Ma come potrò completare il mio cerchio Come dice Daz Non ho mai incontrato Arcaon Non ho mai incontrato nessuna bestia del caos Io penso che il mio viaggio proceda in linea retta Non importa cosa dicono i filosofi del Kislev E questo scontro per il quale ci stiamo preparando È sulla mia strada Tu Sei Vebla Disse Beledni Passando al suo Rexpeel incerto Tu Sei noioso E irritante Ti preoccupi delle cose Non ti arrendi mai Troverai il modo Di completare il cerchio Galak sorrise Posso dirti una cosa Rotamaster Chiese Beledni a noi Quando ero giovane Cominciò Galak L'anno scorso Aggiunse Facendo ridere Rotamaster Credevo di poter cambiare il mondo da solo Andai via dal Talabeim Pieno di piscio e aceto Ero convinto che avrei ribaltato tutto da solo Sarai stato il campione dell'impero Avrei respinto l'orda nemica con un semplice colpo della mia spada Galak Fissò le stelle per un momento Il tempo che ho passato con voi della rota Nelle steppe Mi ha cambiato L'ampiezza dell'oblast mi ha fatto capire quanto fossi piccolo e insignificante Sono solo un piccolo uomo Solo in un mondo sconfinato Era umiliante Le steppe fanno sentire tutti in quel modo Concesse Beledni Ja Ed è stata una lezione molto dura da imparare per un vebla come me Imparare qual è il mio posto Non essere tanto arrogante Allora non abbiamo sprecato un anno eh Redacchiò Beledni Galak risa di gusto Adesso Das mi dice che Non sono un uomo così insignificante Sono tutto quello che il mio ego esagerato ha sempre creduto che fossi Così Almeno dice Das Das ci mostra le cose che sono importanti Disse Beledni Improvvisamente mi trovo tra le mani questo destino Proprio quello che avevo buttato via perché pensavo da stupido Essere l'uomo che da solo salva il mondo L'uomo è in grado di affrontare la bestia del caos Mi è arrivato tutto nel momento in cui me ne fregava di meno Beledni si sedette su una roccia Alle volte Das può essere un gran bastardo Ammise E l'affermazione fece ridere Redacchi Ogni uomo è importante Disse Beledni Come vive Come muore Cosa fa Il modo in cui conduce la vita E il modo in cui la traversa Il Krug gira E ogni giorno Noi prendiamo ciò che ci è dato Se Das dice che affronterai la bestia del caos Allora vuol dire che così sarà Farai in modo che succeda Davvero Il tuo sogno non era una profezia Era un avvertimento di Das Su quanto stava per succedere E così si conclude anche questo secondo capitoletto Molto molto bello Molto interessante Abbiamo un confronto diciamo Direi finale Oserei dire finale Perché ovviamente siamo alla conclusione ormai della lettura Fra Beledni Che è un po' Ha rappresentato durante tutto il viaggio Che hanno affrontato Da quando si sono incontrati Fino ad ora Un po' la saggezza del Kislev Quella saggezza Così inizialmente sconosciuta da Beledni Che effettivamente ora ci ha fatto una sorta anche di Riassunto della sua vita nell'ultimo anno circa Dalla sua partenza da casa Quando l'abbiamo poi incontrato noi nella lettura Appena arrivato nell'oblast vicino al Kislev Quando era ancora quell'uomo arrogante Pieno di sé Pronto a dimostrare tutto il suo ardore guerriero militaresco A questo Un uomo che ha capito quanto potesse essere veramente un microbo Un microbo minuscolo nel mondo Un granello di sabbia nelle spiagge Che poi si ritrova effettivamente con un sogno che gli dice No, tu hai un ruolo importante Per quanto ora ti sei fatto un'idea di questo tipo Capisci che hai un compito forse quasi addirittura centrale Per la salvezza di tutto La chat è morta per la tensione Infatti non capivo Quando ho smesso di leggere non ho visto niente Stanno dormendo tutti Gli ho addormentati questi sei Das è un gran bastardo Is this blasphemia? Is this bestemmiare gli dei importanti? Fortuna non c'è l'inquisizione nel Kislev Sono molto tranquilli Molto più aperti Di manica larga Queste cose Così si deve fare Allora A me fa piacere Perché se è un silenzio portato dall'attenzione sull'argomento Su quello che stiamo leggendo Allora va benissimo Sono più che contento Non è un silenzio di quelli Sei da solo e non stai praticamente intrattenendo nessuno Quello un po' addirittura potrei dire che mi dà fastidio Questo no Questa no È vero Sono d'accordo con Francesco che dice Temo per Beledni Perché il libro gli sta dando appunto effettivamente come detto Questa figura di saggio Comunque lo fa diventare Quasi automaticamente Una figura un po' a cui ci si può affezionare facilmente Perché è quello che riesce a sistemare anche le cose Al momento giusto Che si fa valere Un guerriero comunque sia È effettivamente così Potrebbe succedere È papabile Molto forse Anche giunto in questo punto Con un dialogo del genere O muore lui O muore effettivamente Gerlach Potrebbe essere ancora più plot twist Perché Beledni Come detto già adesso Ce lo iniziamo ad aspettare È un po' Ma se muore Gerlach ragazzi assurdo Non me lo aspetta Un Gerlach morto alla fine di questo libro Però magari succede perché siamo in Warhammer Non è che tutto finisce sempre Bello all'acqua di rose Positivamente Anzi Allora Direi di continuare Non perdiamo il ritmo Stasera ci dedichiamo molto molto Con attenzione alla lettura Molto con Con la voglia di Di andare avanti Direi Direi di sì Direi proprio di sì Quindi Capitoletto 3 Del capitolo 13 Le bande di Surtaleng Si ammassarono Sulla sponda ovest Dell'Urskoi All'alba Erano state impazienti Di entrare in azione Fin dall'alba E gli sciamani Erano passati tra le loro file Orlando Beledizioni e preghiere Il fiume gonfio Costellato di lastre Di ghiaccio Era illuminato Dalla luce fredda Dell'alba E sembrava Che non potesse essere attraversato I cavalli Non l'avrebbero fatto Il suono dei Carnix E che già nell'aria I guerrieri Erano agitati Ma gli Ezzar E gli Ezzar Non avevano dubbi Arkaon Aveva dato un ordine Il signore Dalla fine dei tempi Aveva parlato Con Surtaleng Ordinandogli Di andare a est Per eliminare L'esercito delle steppe Il fianco est Di Arkaon Era esposto E l'orda di Lenk Doveva proteggerlo Gli zar scelti Da Surtaleng Per guidare l'attacco Si riunirono Sulle rive del guado Zar Helfir Zar Skolt Zar Bellicuts Zar Naros Avevano ammassato I loro novecento cavalieri Nel punto stabilito Dietro di loro Avanzavano i Fanti Circa duemila unità La luce debole Del mattino Gli permise di vedere Le forze sigmarite E Kislevite Che si riunivano Sull'altro lato Del fiume Zar Azzin Guidò i suoi cavalieri Tra i guerrieri Ammassati Sulla sponda ovest I soldati Si fecero da parte Per farli passare Erano tutti spaventati Dalla sua presenza Era una presenza Impressionante Le braccia Erano coperte Da cerchi Dalla vittoria E la testa Era coperta Da un elmo d'oro Che alcuni dicevano Avesse preso Dal tumulo Di Hamondarec Altri Sostenevano Che fosse stato Forgiato Su misura Dai preti fabbri Di quel luogo Proibito Qualunque fosse La verità L'elmo Gli conferiva Un aspetto terribile L'elmo Era fatto in oro Bianco Sceitiano E aveva solo Una feritoia oculare Sul lato destro Il resto Della visiera Era modellata Con un basso rilievo Che riproduceva Un occhio circondato Da serpenti Con una pietra blu Nel centro Come pupilla Oggi Faremo scorrere A fiumi Il sangue Zarazizil Disse Yuskel Facendo avanzare Il cavallo Lo stendardo Dello Zarazizil Sventolava Stretto Nelle sue mani Robuste Sì Yuskel A fiumi Confermò Lo zar Ce l'abbiamo E qui Sono sulla Sponda opposta Del fiume Sono A un passo Dall'affrontarsi Buonasera Trafone Ben arrivato Ben arrivato Carissimo Come va Tutto bene Sicuro Il tutto davanti agli occhi Di Gerlach Che va in Berserker E deve fare una strage Morendo anche lui Sarebbe l'apoteosi Per la fine Di tutto Veramente Un finale potente Potrebbe essere Una cosa assurda Wow Vediamo Comunque sì Questo capitoletto Brevissimo Per carità Molto molto rapido Nel darci comunque La sensazione Di battaglia incombente Fra i due Perché Ora abbiamo Lo zar Azitin Ex Karl Rainer Rollen Che Guida Un esercito Corposo Di Kurgan E Addirittura Si prepara lì A far scorrere Il sangue A fiumi Cioè È partito Ed è Assurdo Perché appunto C'è quella visione Di 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 Gerlach Se non ricordo male Che era stata fatta Proprio all'inizio Del libro Ed era questo Serpente Questo Anzi questa schiera Di serpenti Che si riuniva Intorno a una O un occhio azzurro È l'elmo È l'elmo Ed effettivamente Poi lui Mutato nel suo aspetto Dopo le ultime battaglie Dell'ultimo periodo Quindi Ci siamo Nel senso Siamo qui Tutto bene Tutto bene Oh mi fa piacere Tarfone Noi qui invece Si legge E anzi A proposito Di lettura Io Senza Di nuovo Dire Interrompere il tutto Proseguo Con il quarto Capitoletto Del capitolo 13 Il Carnix Suonò E gli uomini Di Leng Entrarono Nell'acqua Sfidando La corrente Impetuosa Tenendo alti Gli scudi E le asce Dietro di loro I primi cavalieri Osarono sfidare Le acque gelate Il pulk Attendeva Pazientemente Molti Curgan A piedi E a cavallo Furono spazzati via Dalla corrente Del fiume E scomparvero Tra i flutti Il contingente Di Surtalenk Però Aveva dalla sua parte Il numero I primi guerrieri Riuscirono a salire Sulla riva E corsero Verso il nemico Poco dopo Giunsero anche I cavalieri Della banda Di Zar Helfield E Zar Skolt Il pulk Attese Che si fosse Ragionato Un numero Significativo Di nemici Che adesso Non potevano Scappare Da nessuna parte Perché Avevano il fiume Alle spalle I corni D'osso E le trombe Suonarono E il pulk Avanzò I picchieri Dello Stirland Formarono Il muro E avanzarono Mentre gli arcieri Posti su entrambi i lati Del lanza Bersediavano I nemici Sulla sponda Con un diluvi di frecce I uomini Cadevano A destra E a sinistra Nello stesso istante Una grossa compagnia Di arcieri a cavallo Colpiva i kurgan Ancora in acqua L'effetto Fu notevole Centinaia di kurgan Morirono In mezzo al fiume Giarelfil Perì A causa Di una freccia Che gli trapassò Il cranio E Zar Skolt Cadde dal cavallo Con due darti Che gli spuntavano Dal petto Il pulk Lanciò Un urlo Di trionfo Sfidando Il fiume E i soldati Erano riusciti A infliggere Un gran numero Di perdite All'avversario Sulla sponda Ovest Zar Atizin Malediva Ad alta voce Gli dei nemici E biasimava I suoi Per la mancanza Di aiuto Anche i suoi Compagni Più fedeli Sbiancarono Nel sentire Parole Tanto blasfeme Sar Colui Che muta Gli eventi Perché Ci hai abbandonato In questo modo Urlò Atizin A rivolta A un cielo Che era blu Come l'occhio Dei sarpenti Si tolsele il modorato In modo che il suo occhio Devastato Potesse intimorire Il suo dio Forse Zar Stava ascoltando Il suo figlio Prediletto O forse Surtalenka Aveva fatto Un accordo Con i poteri Magici Fatto sta Che Qualunque fosse La causa Il cielo Divenne improvvisamente Scuro Una coltre Di nuvole Marmore Colpì Il firmamento Coprì Il firmamento Cominciò A cadere La neve E ricoprì Le corazze Di entrambi Gli schieramenti Un vento selvaggio Tagliò l'aria E la temperatura Calò violentemente L'Urskoy Gelò I Kurgan Che dovevano Ancora disporsi Si fermarono Stupiti L'acqua Era gelata Con un tale rapidità E in maniera Tanto innaturale Da intrappolare I soldati In mezzo al fiume Che morirono Stritolati Lo spettacolo Sovranaturale Minò All'entusiasmo Del pulch Adesso Adesso Tuonò Zarazin Rimettendo l'elmo Ora Il nome di Arkaon E Zar Adraer Soffiò nel Carnix Con tutto Il fiato Che aveva in corpo E il suo entusiasmo Contaminò I suonatori Di corno Delle altre bande I cavalieri Kurgan Si lanciarono Al galoppo Sul ghiaccio Sollevando Una pioggia Di schegge Simile a Tanti zaffieri Aprendo La strada All'afanteria La banda Di Adithin Fu la prima A raggiungere La riva E caricò Passando tra le fiere Dei sopravvissuti Della prima ondata Quando i picchieri Dello Stirland Lo videro Ruppero lo schieramento Per la paura La compagnia D'arcieri Guidata da Dimirov Figli di Gaspar E fratello di Antal Era la più vicina Al nemico Avevano bersagliato I nordici Che avevano raggiunto La riva E adesso Si stavano Concentrando Sui nuovi arrivati Gli archi Dicchi sleviti Schioccarono Scagliando le frecce Contro i nordici Sbalzandoli Dalle loro Selle O azzoppando I cavalli I curgan Tesero gli archi Berlas Lir Diormac Tutti Incluso lo zar Tirano Scoccarono Non una volta Ma a ripetizione Caricando l'arco Con le frecce Che tenevano Tra l'edita Della mano Che lo reggeva Selve di frecce nere Piovvero Sui loro nemici Nel volgere Di pochi secondi Dozzine Dicchi sleviti Erano morti E quando i due schieramidi Si incontrarono La compagnia Di Dimirio Di Dimiroth Era stata decimata I curgan Estrassero le spade I nordici Che indossavano Armature robuste Ebbero facilmente La meglio Sugli avversari Evgul Decapitò Dimiroth Senza neanche rallentare E Sacondor Uccise il vesselifero nemico Stavano calando Sul fianco del pulch Che si apriva Di fronte a loro Non erano soli Perché stavano arrivando Le bande degli altri zar Che si concentrarono Sulla parte frontale E sull'ala destra Dello schieramento E il violento impatto iniziale Si stava appena esaurendo Quando arrivò La fanteria La battaglia Che aveva rischiato Di essere persa Era diventato Uno scontro campale La fortuna Stava cambiando In un modo Che avrebbe fatto piacere All'occhio Di Char Tanta bella roba Io ragazzi Non mi fermerei Questa sera Più di tanto Per le valutazioni Ma ci lascerei Proprio Prendere E trasportare Il flusso Delle parole E della narrazione Capituletto 5 La rota di Yechin Si era rassistemata Sul lato destro Del pulch Pronta a intervenire Intorno al muro Delle picche Quando il fiume gelò Beledni Si alzò Sulla sella E girò I suoi uomini E si girò Verso i suoi uomini Ricordate Che questa È l'ultima battaglia L'unica Battaglia Combattete Come se non ci fosse Un domani E lo prenderete Beledni Impartì l'ordine E Yevni Suonò la carica La rota Spronò i cavalli Al galoppo E abbassò le lance Erano in compagnia Di altre due rota E insieme Formavano una vista Gloriosa Guerri ricorazzati In oro e argento Che galloppavano Con le ali al vento Sulla distesa di neve Una sezione Di partigiani Chisleviti Panteria Giunta dall'oblast Era appena Stata dispersa Dalla banda Dello zar Creia E da un cuneo Di curgan Armati di ascia I lanceri Piombarono Su di loro Come una marea dorata Nessuno degli uomini Di Creia Armati come erano Di asce E pallaz Era in grado Di sostenere L'attacco Delle lancia Chislevite I cavallieri Rincularono Sulle selle Mentre le armi Si piantavano Fremendo Nei colpi Nei corpi Dei curgan Diverse aste Si spezzarono Nell'impatto Ma non ci fu Lancia Che non uccise O ferì In quella collisione Durata un attimo Cinque nuovi cavallieri Della morte Ricevettero Il battesimo Della battaglia E poterono Vantarsi Della loro Prima uccisione I sopravvissuti Cercarono Di fuggire Ma incapparono Della loro stessa Fanteria In piedal panico E per qualche attimo Cominciarono A uccidersi A vicenda Molti fanti Caddero Sotto gli zoccoli Dei cavalli Creia stesso Uccise alcuni fanti Nel tentativo frenetico Di liberarsi La strada Alcuni uomini Armati di ascia Si avventarono Contro i cavallieri Del loro stesso schieramento Nel disperato Tentativo Di rimanere in vita Le lance della rota Erano quasi tutte rotte Solo alcuni Le conservavano ancora E Mitri Uno di quei pochi Affondò la sua Nel petto Del suonatore di corno Della banda di Creia La rota Prese i giovellotti E li lanciò nella calca Vaya Che si trova Proprio davanti a Gerlach Scagliò il suo giovellotto Con tanta forza Da trapassare Alla spalla Dello zara in fuga Creia Urlò E riuscì a rimanere In groppa Riuscì a girarsi In tempo Per ricevere Il secondo giovellotto Di Vaya Dritto In mezzo agli occhi La rota Aveva massacrato La banda di Creia E la fanteria Che la appoggiava Gli Ebni Suonò il corno Per radunare il Krug E Beledni Lo fece girare In quel momento Videro un'altra banda Di Kurgan Che si avvicinava Lanciata alla carica Capitoletto 6 Juskel aveva individuato La posizione del Boyarin E l'aveva guidata Al suo zara E l'aveva gridata Al suo zara Adizid aveva messo Una specie di ruggito E aveva spronato Il cavallo in avanti Quella Era la sua preda Più ambita Avrebbe posto La testa del Boyarin Con gli occhi bruciati In cima alla pila Di Teschi Mentre Cegrum Gli infliggeva Il primo marchio Della vittoria Poi Avrebbe coperto La testa d'oro fuso E l'avrebbe appesa In cima alla standard Della banda di guerra Quel gesto Inoltre Gli avrebbe permesso Di guadagnare Il favore Dello zar supremo Non aveva dubbi Che dopo aver compiuto Una simile impresa Sarebbe diventato Il prediletto Di Surtalenk Sarebbe diventato Etzar Adizin Capo dei capi C'era una fila Di lanciari Ghisleviti Tra lui e il Boyarin I cavallieri alati Erano appena usciti Da uno scontro Che avevano esaurito E avevano esaurito La scorta di lanci Giavellotti Li avrebbe demoliti Li avrebbe decapitati Tutti E sparpagliato al vento Le loro ridicole ali Capitoletto 7 La banda dello zaradizi E la rota del Krug Yechin Si affrontarono a tutta velocità Senza la minima esitazione Capitolo 8 Grandi Dazze e Sigmar Proteggeteci Ansimo Gerlach Quando vide la bestia Cavalcare alla testa Dello schieramento nemico Il modorato Aveva un aspetto schifoso Ma la cosa più oscena Era il bagliore blu Che pervadiva il lato Senza feritoia Era un demone Una creatura Sguinzagliata Dall'aldilà Gerlach Non riusciva a immaginare Quale potesse essere L'inferno maledetto Che aveva generato Quel guerriero Daz Però Gli aveva mostrato Il blu e l'oro Nel sogno Quindi sapeva Di trovarsi nel posto giusto Capitoletto 9 Il mondo Il mondo si infranse Come se fosse stato colpito Da un martello I Kurgan e i chiusleviti Si scontrarono In un marasma di confusione Confusione E morte Berlas scagliò Alle sue ultime frecce E Mitri cadde a terra Con il petto trapassato Beledni Uccise Djormak Con un fendente alla testa Maxim Ricevette una ferita Alla coscia Dall'ascia di Efgul Mentre si passavano vicino Poi Incontrò Sacondor Faccia a faccia La parlazza di Sacondor Staccò qualche piuma Delle ali di Maxim E quest'ultimo Lo decapitò Gennedy La recluta più giovane Scagliò il giavellotto Ma mancò il bersaglio Lanciò un urlo strozzato E un attimo dopo La spada di Lir Uccise lui E il cavallo In un solo colpo Fegul mano sola Affrontò Yifan I due si scambiarono Una cragnola di colpi Ma la forza fisica Di Fegul Ebbe la meglio Il Kurgan Aprì la guardia Da il petto Del chislevita Fegul stava insultando A gran voce Quando Kevetlai Che aveva le lacrime Agli occhi Lo raggiunse Zittendolo per l'eternità Con la sua shashka Vagli e Vitali Che come al solito Combattevano insieme Affiancavano Gerlach Mentre sprofondavano Nel centro Dello schieramento nemico Le loro spade Balzarono parecchi Nordici dalle selle Erano sempre più vicini Allo stendardo nemico E al bruto Vestito di pellice Che lo reggeva Gli Evni E Cuba Coprivano le loro spalle Yuskel li vide arrivare E alzò lo spadone Hazar e Lir Schizzarono di fronte a lui Per difenderlo Hazar Tentò un affondo Per uccidere Il vessillifero nemico Ma Vitali Lo bloccò E lo costrinse A duellare con lui Continua Urlò Vaia Continua Vebla Stava spostando La spada di Lir E il suo cavallo Era ferito E sanguinante Gerlach Pronò Saxon In avanti Cercando di evitare I combattimenti Intorno a lui Gli Evni e Cuba Lo superarono E si direccero Verso il vessillifero De Kurgan La spada di Cuba Affrontò nel col Affondò nel colo Di Juskel Mentre lui E gli Evni Lo superavano La bestia strisce Di Juskel Emise una sorta Di urlo Scalciò E scappò via Mentre il vessillifero Cadeva Dalla sua groppa Lo stendardo cadde Gli Evni Si girò Gli zoccoli Del cavallo Del cavallo Scivolarono E la neve Resa viscido Dalle sangue E cercò Di prendere Lo stendardo Per infrangere Il morale Del nemico Hader Lasciò Lanciò Un urlo Rabbioso Ferì vitali E coprì La distanza Tra lui E lo stendardo Caduto Galoppando A rotta di collo Colpì Gli Evni Facendolo Cadere Dal cavallo Con il primo colpo Poi Lo incalzò Dalla testa E alle spalle Mentre cercava Di alzarsi Hedgul Arrivò Prese lo stendardo E si allontanò Vaglia Osservò Tutta la scena Mentre piantava La spada Nel cuore Di Lirga Proseguiamo Con il capitolo 10 Zar Adizin Vide il vessilbifero Nemico In sella Il castrato Bianco Rosso Il cavallo Di Carl Adizin Emise un lamento Mentre lui Gli piantava Gli speroni Nei fianchi A scatto In avanti Quello Di fronte A lui Era il prescelto Di Adin E Adizin Lo sapeva Anche senza La bandiera Era Quello Giusto Gli aveva mostrato La vista interiore Che gli aveva donato Tsar Garlak Vide un lampo D'oro E sentì qualcuno Vaya O Vitali Forse urlare Il suo nome Per avvertirlo La bestia Del caos Che aveva perso Il vivista Nel massacro Era ricomparsa Stava dirigendo Verso di lui La semplice vista Di quel fuoco blu Diggelo Il sangue Nelle vene Era blu Come l'occhio Che aveva visto Nei suoi sogni Fabricitanti Non era una profezia Daz L'aveva avvertito Stringeva in mano La sua vecchia sciabola Dalle lance spezzate E gli sembrava Un'arma del tutto Inadatta Ad affrontare Una bestia simile Due cavalieri S'interposero Alla bestia del caos Beledni Beledni e Borodin Beledni Beledni lo trovò E la lama Della sua spada Si ruppe Contro i cerchi Della vittoria Intorno al braccio Destro Dello zar Che per tutta risposta Menò un violento Fendente Beledni Urlò Gerlach Il rotamaster Rondeggiò Per un attimo Quindi cominciò A scivolare Lentamente Della sella Gerlach Lanciò Saxon Al galop Urlando Il nome Di Beledni Aveva bisogno Di una mano Per tenere Le redini E dell'altra Per reggere La spada Quindi Gettò Lo stendardo Senza Esitare E si avventò Contro lo zar Adizim Lo fissò Sbattendo La palpera Dell'occhio Buono Stava Vedendo Un cavaliere Armato Con una sciabola Di cavalvia Troppo Fuscato Dalla rabbia E dal dolore Per pensare Chiaramente Non sarebbe Stato difficile Ucciderlo Quella Piccola E stupida Spada Una sciabola Delle lance Spezzate Carl Adizim Lo fissò Con la vista Donata Di da zar E lo riconobbe Gerlach Elemann Perché Chiar gli aveva Rivelato Quella visione Così in ritardo Alzò La grossa Palla Insanguinata Per ucciderlo Ma esitò Per un secondo Gerlach Che teneva La spada In posizione Di carica Affondò La lama Nel petto Dello zar Talmente In profondità E con tale Violenza Che perse La presa Intorno All'esa Gerlach Fece girare Saxen Per un altro Passaggio Ed estrasse La daga Nel caso In cui La bestia Del caos Mostrasse Qualche segno Di voler Continuare A combattere Lo zar Era crollato Al suolo E l'elmo Gli era rotolato Via dalla testa La luce blu Si era spenta Era morto Gerlach Si fissò A guardarlo Quel viso Martoriato Gli era In qualche modo Familiare Poteva essere Una follia Come un sogno Indotto dalla febbre Ma quello Era il viso Di Carl Rainer Vollen No Non lo era Era qualcosa Che Un tempo Aveva avuto Quel nome Cosa sarebbe Diventato Se Gerlach Non l'avesse Ucciso Gerlach Era brividi E avesse saputo L'identità Del suo nemico Forse Avrebbe esitato Il cielo Stava tornando Sereno Sulla pianura Il pulch Stava ribaltando Le sorti Dello scontro L'orda di Lenk Era respinta Nel fiume Che aveva ripreso Scorrere Normalmente Gerlach Ignorò Quanto stava succedendo Preso la bandiera E andò Da Beledni Borodin Si inginocchiò A fianco Del suo Rotamaster Nonostante Il dolore Delle ferite Anche Gerlach Si inginocchiò Con le lacrime Agli occhi Non piangere Vebla Non è il momento Del dolore Sospirò Beledni Beledni In Rotamaster È morto Tanti anni fa Gerlach Non riusciva A smettere Di piangere Lo hai ucciso Uno Del capitolo Quattordici Ed ultimo Capitolo Pire Seppellirono Beledni E gli altri Morti Nelle steppe I cavalli Galloparono Verso il fuoco Di tali Gerlach Sperò Che una volta Esorri Per la terra Sulla quale Cavalcare Avessero le ali Per spiccare Il volo Capitolo 2 Verso la tarda estate Gli ultimi componenti Della banda di guerra Che avevano recuperato Il cadavere Del loro condottiere A Masorod Giunsero a Hamondarek E lì Composero la salma Lo seppellirono Sotto un cumulo D'oro Circondato Dalla sua armatura Berlas Riposò Un arco Integro Al suo fianco Il cavallo di Karl Agitzin Era impalato fuori Dalla tomba Hazer Emise un'ultima E lamentosa nota Del Carnux Ed Efgul Urlò il nome Agitzin Capitoletto Terzo Le nevi Si sciolsero E la guerra Continuò Nell'oblast La primavera Rinfrescò il terreno E si levarono Nugoli di zanzare La rota Alloggiò Nella stannizza Di Olcan Per riprendersi Dalla battaglia Gerlach Era agitato da giorni Era stanco E desiderava qualcosa Al quale non riusciva A dare un nome Un tardo pomeriggio Il sole Al tramonto Sulle steppe E vide una nuvola Che sembrava un agnello Che cercava di succhiare Il latte Da una pecora Ora sapeva Che era giunto Il suo momento Quella nuvola Aveva fatto il giro completo E lui L'aveva vista Due volte Il suo viaggio Era concluso Preparò Bieli Saxen Che si mise All'armatura Vaia e Vitali Capirono Cosa stava Per succedere Ma non dissero Nulla E lo aiutarono Gerlach Consegnò La bandiera Della rota A Cuba Sorvegliala bene Disse a Vitali E a Vaia Uscì al galoppo Nelle steppe Il crepuscolo Era vicino Alle sue spalle Fermi sul cancello Dello stanizza Vaia e Vitali Cominciarono Improvvisamente A urlare il suo nome Come se avessero Improvvisamente Cambiato idea E volessero Che tornasse indietro Vebla Urlarono All'infinito Gerlach Non si girò a guardare Cavalcò Verso l'abbraccio Del destino Continuando a cavalcare Finchè non fu Abbastanza buio E il suono Delle voci Che urlavano Il suo nome Non fu scomparso Del tutto Nelle steppe infinite Signori Abbiamo Completato così Il tutto Molto 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 Bello Molto emozionante Molto